Il vero slancio, il vero passo, il primo grande passo è stato nel 99 quando siamo entrati nel CSR, che è il consorzio che ha, che fra le altre cose compie anche lo stesso consorzio 15 anni quest'anno, ma noi siamo entrati nel 99 perché era un consorzio nato in ambito lega, siamo comunque entrati e da lì abbiamo piano piano rafforzato tutti i servizi con prima Amia, perché prima era Amia e poi con Era, soprattutto nei servizi raccolta differenziata che ancora oggi sono il nostro principale settore di attività che è la principale parte del fatturato. Olmo e Formica crescono insieme, quindi l'esperienza è molto comune, come dicevo prima sono poi due cooperative, espressione delle due associazioni che sono all'interno del CSR di fatto dalla sua nascita, Formica poco dopo ma di fatto dalla sua nascita, quindi noi Olmo e Formica hanno relazioni molto strette, insomma al di là delle tipologie di servizi che in alcuni casi sono molto analoghi, però davvero sono cresciute in questi 15 anni insieme all'interno di quella straordinaria esperienza che è il CSR. La cooperativa e la Formica con il suo Presidente quale tipo di apporto positivo ha dato nel Consorzio Sociale Romagnolo ma non si è contentata del Consorzio Sociale Romagnolo e addirittura non è andata a far nascere un Consorzio Romagnolo che si vada poi a confrontare con Era e con le grosse imprese proprio perché il lavoro fatto all'interno del mondo cooperativo, il lavoro fatto dai cooperatori fosse veramente un lavoro di dignità e questa dignità insomma avesse il proprio peso. Io ho iniziato a lavorare all'interno del Consorzio Sociale Romagnolo nel 2007 e la Formica era già una delle cooperative più importanti all'interno del Consorzio, tant'è che ne esprimeva il Vice Presidente che poi adesso è l'attuale Presidente, quindi la conoscevo diciamo più per le attività che svolgeva, quindi un forte ruolo nel campo dell'igiene ambientale, più alcune altre specializzazioni come la fissione dei manifesti e i servizi cimiteriali. La cooperativa è uno degli esempi migliori all'interno del Consorzio di passaggio da soggetto sociale a impresa sociale, cioè è una delle strutture che ha più, secondo me, interpretato in maniera corretta il passaggio che la cooperazione sociale deve fare da struttura prevalentemente sociale a struttura che coniuga il sociale con l'imprenditoria. Credo che la Formica sia stata una delle cooperative che più ha spinto per far diventare il Consorzio unitario, quindi credo che sia un merito che vada anche ascritto a loro. Dall'altra parte l'essere unitario è un fattore fondamentale di successo del Consorzio, cioè quello che è riuscito, la crescita che è riuscita a fare in questo periodo del Consorzio è dovuto in grande parte proprio al fatto di essere rappresentativo, ma per essere rappresentativo di un mondo come quello della cooperazione sociale è necessario l'unitarietà, cioè è necessario che all'interno del Consorzio ci siano anime molto diverse. Noi rappresentiamo la cooperazione sociale di servizio lavorativo di tipo B, rappresenti per il territorio, per la città di Rimini e per la provincia di Rimini davvero un esempio di buone pratiche nel mondo della cooperazione sociale, davvero di buone pratiche. Via Portogallo nasce da un'opportunità che arriva dal momento in cui più cooperative stanno cercando una soluzione alla propria necessità di avere una sede, non solo per gli uffici, quindi non solo amministrativa, ma anche per alcuni di esse una sede logistica, quindi magazzini e quant'altro, e l'immobile che in quel momento era disponibile si prestava particolarmente a quelle esigenze, quindi è stato un attimo. Il Consorzio di Portogallo è una bellissima esperienza, quattro cooperative si sono messe insieme e hanno deciso di acquistare casa, questo dando origine secondo me a uno dei poli più importanti della cooperazione sociale a Rimini. Comprare una proprietà in maniera indivisa fra quattro cooperative è davvero un segno di grande cooperazione insomma fra le cooperative. Questa è stata per me un'esperienza veramente bella perché ha messo in evidenza quali sono i rapporti che ci devono essere fra le cooperative, come fra i soci di una cooperativa, così fra le cooperative di un consorzio. Sono tutte cooperative che sono soci del Consorzio Sociale Romagnolo, quindi sono cooperative che hanno già fatto un bel pezzo di percorso insieme, nel senso che sono anni che lavoriamo insieme dentro quest'altro consorzio. L'idea di quattro cooperative di mettersi insieme per acquistare poi questo immobile è un'idea che è nata poi lì dentro di fatto, quindi nasce dell'esigenza di trovare una casa in qualche modo per queste quattro cooperative. Qui dentro c'è anche poi l'idea di fare delle cose insieme, quindi chiaramente di unire ancora di più le forze di queste quattro cooperative. Stiamo ad esempio facendo un progetto comunitario europeo, Leonardo, stiamo viaggiando per l'Europa per vedere anche realtà simili alle nostre. È un progetto che nasce dentro il Consorzio del Portogallo, unisce queste quattro cooperative. Penso che le cooperative, noi siamo una cooperativa sociale, abbiano una modalità un po' particolare di lavorare insieme. Nel senso che a volte forse si fanno anche delle cose un po' azzardate, ho forse anche pensato poco col cervello e molto più con la pancia. Ci stiamo attivando anche per pensare un po' anche di più col cervello, però lavorare insieme a questa collaborazione, mettere insieme insomma delle idee dei progetti che sono penso simili di queste cooperative, penso che abbia dato un po' così alla città un indirizzo insomma per poter fare qualcosa di diverso. ma forse anche la speranza da parte di qualcuno di poter investire in qualcosa di diverso del solito lavoro insomma. È un tema recentissimo, a livello nazionale Lega Coop e Coop stanno sperimentando e facendo azioni di unitarietà. Noi l'abbiamo fatta dieci anni fa con il CSR e di nuovo con il Consorzio del Portogallo e funzionano.